Musica Buonasera, siamo qui sui Kennedy Stadium, un'altra giornata di Mondiale Le due squadre che fanno il loro ingresso in campo sono Australia contro Spagna Le squadre si posizionano al centro del terreno di gioco Le due squadre salutano i loro tifosi, è momento di fair play Musica Musica L'albitro chiama 6-2 capitani per il sorpreso della palla e del campo Musica Musica I giochi sono fatti, buon divertimento Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.